buongiorno e bentornati sul canale allora se vi siete fatti ingolosire dalla puntata domenica scorsa in cui ho parlato del iphone ricondizionato eccolo qui sicuramente avete acquistato anche voi un iphone e se venite al mondo android avete trovato qualche difficoltà nel passaggio da questi due sistemi oggi cercherò di spiegarvi un po di cose prima di tutto grazie al mio collega amico francesco che ha acquistato anche lui un iphone anzi ne ha presi due due iphone 12 pro max per la precisione quindi quelli più grandi rispetto al mio arrivando lui dal mondo android abbiamo deciso insieme appunto di realizzare un breve video in cui vi facciamo vedere come è possibile trasferire informazioni tra due mondi ma soprattutto volevo anche lasciarvi a fine diciamo fine video con alcune informazioni riguardanti proprio il sistema operativo ios quindi andremo a vedere un attimo magari anche proprio come si accende e si spegne un iphone come si passa da un'app a un'altra insomma tutte quelle piccole cose che magari sono leggermente diverse rispetto a quello che potete fare nel mondo android ma che potete fare ugualmente nel mondo ios quindi se anche voi avete venduto l'anima alla mela morsicata dopo la sigla vediamo come si fa a passare da un sistema android a un sistema ios ed eccoci qui allora per prima cosa dovrete scaricare l'app ios da google play quindi andate sul google play sul vostro store android e scaricare quest'app farò riferimento a questo sito che è il sito ufficiale della apple support.apple.com vi lascio il link in descrizione dove potrete seguire passo passo tutta la procedura che adesso andrò a farvi vedere una cosa importante se scorrete possiamo andare a vedere anche quali sono le cose che possiamo trasferire ecco qui nel punto 6 c'è scritto ecco cosa viene trasferito quindi contatti cronologia dei messaggi foto e video della fotocamera album fotografici file e cartelle impostazioni di accessibilità impostazioni del display segnalibri web account mail e calentari saranno trasferite anche alcune app gratuite se disponibile sia su google play sia su apple store completato il trasferimento puoi scaricare tutte le app gratuite trovate sull'app store quindi diciamo in realtà riusciamo a trasferire davvero tutto quello che ci serve alcune cose normalmente andranno poi ritrasferite a mano più che altro abbiamo notato le password di accesso alcune applicazioni e magari ci sono delle applicazioni che non esistono sul mondo apple in quel caso quindi non possiamo fare niente dovrete trovare magari qualcosa di alternativo comunque sia tutte le app di google quindi tutte quelle che fanno parte dell'universo google sono perfettamente compatibili anche con ios e quindi le troverete nell'app store di ios allora prima cosa da fare è quella di completare la configurazione su ios quindi magari mettendo anche il fsd o il codice di sblocco se volete ma potete anche farlo successivamente una volta entrati in questa schermata appedati quindi lanciate su android il programma migraios avrete un codice di attivazione che vi verrà dato dal sistema ios e dovrete inserirlo sull'app di android e aspettare un secondo in questo momento cosa accade che il trasferimento dati è pronto e potete andare a selezionare quali sono le cose che volete trasferire per esempio vedete i messaggi contatti gli account ma come vedete c'è veramente di tutto una volta che avete deciso quello che vuole trasferire potete trasferire tutto naturalmente potete lanciare il trasferimento vero e proprio qual è il tempo che ci impiega il sistema dipende un po dalle quante foto avete quante soprattutto quante foto video musica avete sul dispositivo android mi raccomando la cosa importante i dispositivi devono essere tutti e due collegati alla rete elettrica perché ci vuole un pochino e normalmente anche alla rete internet tutto il processo può durare svariati minuti dipende vi ripeto dal sistema che stare trasferendo 20 minuti mezz'ora un'ora noi abbiamo impiegato circa una trentina di minuti per fare il tutto manca meno di un minuto il trasferimento completato sia dalla parte android che come vedete anche dalla parte ios e si può completare la configurazione quindi la cosa più importante è normalmente quella di inserire l'id apple se non l'avete lo potete creare l'id apple vi serve poi per connettervi a tutto il mondo apple quindi per quanto riguarda poi l'acquisto di prodotti ma anche per quanto riguarda la sicurezza dell'id stesso la possibilità di gestire il backup in cloud e tutto insomma le varie operazioni che si possono fare con ios una volta completato abbiamo anche la possibilità di inserire alcune informazioni tipo la localizzazione del dispositivo possiamo configurare siri ma anche in questo caso possiamo farlo successivamente impostare il tempo di utilizzo l'analisi dei dati come vedete sono tutte informazioni che potete sia attivare ma anche scegliere di farlo in un modo diverso potete scegliere anche lo sfondo se chiaro o scuro e anche la grandezza dei caratteri standard o più zoomata e abbiamo compriuto come vedete iphone ti dà il benvenuto e siamo pronti quindi ad utilizzare il nostro nuovo dispositivo quindi arrivando a questo punto non dobbiamo fare altro che spiegare un po' quello che potete fare col vostro nuovo smartphone targato apple ed eccoci qui allora come avete visto il sistema di trasferimento è davvero semplicissimo basta seguire le istruzioni che trovate sul sito apple è il video che vi ho appena mostrato dove si vede appunto la semplicità del processo bisogna soltanto avere un po' di pazienza e attendere che tutto si concluda ma devo dire in modo molto rapido pochissime configurazioni da fare adesso andiamo a vedere quali sono quelle funzionalità un po' particolari che ci possono essere in uno smartphone iphone e quindi che non siete abituati a utilizzare magari un vostro dispositivo android la prima di questa è quella dello spegnimento ed accensione del dispositivo stesso può sembrare una cosa banale ma non è così allora come vedete qui di lato abbiamo questo pulsante è abbastanza grande vedete qui qui di lato avete i due pulsanti di volume volume su e volume giù quindi per spegnere il cellulare dovete tenere premuto questo tasto grande e il tasto del volume alto quindi in questo modo tenendoli premuti insieme e schiacciando vedete appare questa schermata che è la schermata appunto di spegnimento in alto c'è scorri per spegnere in basso possibile visualizzare la cartella clinica la cartella clinica è un fa parte dell'app salute che c'è all'interno del vostro cellulare dove potete andare a inserire delle informazioni sia informazioni riguardano vostro peso altezza lo stato di salute quindi gruppo sanguigni eccetera ma anche i numeri di emergenza come vedete in basso infatti c'è un altro pulsante esso esso emergenze dovete emettere dei numeri telefonici di persone che possono essere contattate se voi siete in possibilità in quel momento a chiamarle infatti chiunque trova un dispositivo is può cliccando questi due tasti attivare questa funzione e lanciando sos può chiamare il numero che voi avete inserito all'interno della vostra cartella clinica una funzione molto utile questi nuovi iphone non hanno il pulsante in basso quindi non potete utilizzare il pollice o qualsiasi altro dito per sbloccarli questa è una cosa da dire perché magari alcuni dispositivi android anche se hanno diciamo riconoscimento facciale hanno anche la possibilità di utilizzare l'impronta digitale cosa che invece sui nuovi dispositivi OS non è possibile altra visto che stiamo parlando di pulsanti come vedete qui in alto c'è questo piccolo non è un pulsante ma è proprio una levetta che vi permette di mettere in modalità silenziosa quindi in questo momento vedete non c'è nessun colore se lo abbassate giù vedete si attiva un colore leggermente arancione proprio perché è verniciato in basso e come vedete guardate cosa succede lo schermo silenzioso sì in questo momento il telefono vibra ok quindi è molto comodo questa c'è sempre stata in tutti gli iphone da quello che mi ricordo ed è una levetta molto utile perché potete attivare e disattivare senza andare a cercare all'interno delle impostazioni del vostro smartphone andiamo a vedere adesso come si passa da un'app a un'altra allora i dispositivi android che voi state utilizzando in basso qui hanno di solito tre pulsantini il pulsantino con la freccia per tornare indietro quello per le app eccetera adesso non mi ricordo perché non sono un grande conosciutore scusatemi del mondo android comunque avere questa serie di pulsanti che invece all'interno dei ios non esistono quindi non ci sono pulsanti virtuali in nessun modo per passare da un'app a un'altra ad esempio apriamo le impostazioni se noi vogliamo passare ad un'altra app basta fare uno vedete che c'è questo simbolo qui in basso questa lineetta che ci indica proprio lo swipe quindi basta andare in alto con il dito vedete le app si trasformano quindi diventa tutto schermo quindi se noi rilasciate un attimo ve lo faccio rivedere quindi riapriamo magari un'app in modalità tutto schermo quindi io basta che faccio così fermo un attimo e posso vedete scorrere tutte le app che sono attive in questo momento e basta cliccarci sopra in questo caso clicco su l'app casa e la posso aprire in primo piano se la voglio chiudere basta fare uno swipe prolungato quindi ho tiro così la tiro in alto e così ho chiuso la mia app vedete infatti è tornata nella sua posizione questo diciamo è una differenza rispetto a quello che voi conoscete altre operazioni che potrei fare quindi andando in alto in basso con il dito quindi swipe all'interno dello schermo è quello di fare uno swipe in basso in questo caso dove vi trovate all'interno qui del con i simboli del wifi eccetera quindi basta andare in giù per aprire il pannello di controllo dove avete alcune funzionalità anche queste funzionalità che vedete qui possono essere abilitate disabilitate quindi potete aggiungere o togliere alcuni pulsanti qui come vedete abbiamo la possibilità di aumentare la luminosità di aumentare il volume di andare nella modalità full immerse adesso io non vi sto a spiegare poi tutte le varie cose che potete fare con la iOS quindi dovete insomma studiarvelo un po' perché ci sono tante tante cose comunque giusto per darvi alcune informazioni la possibilità di accendere ad esempio la torcia vedete soffermiamoci invece magari su questo piccolo pannello che è quello in alto a sinistra dove c'è la modalità aereo quindi si capisce subito cosa serve vedete ho abilitato la modalità aereo la modalità dati quindi in questo caso io vado a spegnere i dati del mio operatore quindi non consumerò dati giga all'interno del mio operatore la possibilità di abilitare e disabilitare il bluetooth così come la wifi se tengo premuto prolungato il pulsante wifi mi si apre questo pannello in modalità un po' più grande e in basso mi dà anche delle informazioni in più tipo il wifi dove sono collegato la possibilità di abilitare l'hotspot personale e anche la possibilità di abilitare in questo caso per tutti l'airdrop l'airdrop è una funzionalità dei sistemi ios che è quello appunto di poter scambiare quindi più del bluetooth diciamo quindi poter scambiare file foto immagini quello che volete tra dispositivi ios quindi io potrei andare prendere una foto e fare un airdrop sul cellulare di mia moglie per esempio quindi posso sportarla una foto direttamente in questo modo quindi senza utilizzare nei whatsapp nei messaggi ma un invio diretto tra dispositivi tutte queste funzioni naturalmente che sono quelle principali che state vedendo adesso le andate tutte a configurare all'interno di impostazioni quindi questo grande ingranaggio che vedete qui è proprio il cuore del sistema operativo qui dentro potete vedere veramente tutto quello che potete fare c'è tutta una parte che riguarda naturalmente le applicazioni integrate la ios quindi che sono tutto questo pannello che vedete quindi telefono messaggi fest time eccetera e poi una serie di invece di funzioni disponibili per le app che avete scaricato all'interno del vostro ios vedete qui ci sono tutte le app con le loro prerogative ad esempio se andiamo su dropbox potete andare a vedere se voglio utilizzare anche siri per fare le ricerche sui documenti del dropbox le notifiche se voglio che mi arrivano le notifiche e se questa app ad esempio può gestire o meno i dati cellulare quindi se può ad esempio dropbox scaricare aggiornare i file anche se ci troviamo in modalità cellulare poi togliendo questo pulsante per esempio impedite che vengano utilizzati i dati cellulari quindi si sincronizzerà dropbox soltanto con il wifi quindi siete liberi insomma di gestire poi anche la particolarità dei vari prodotti dipende molto anche da quello che devono fare i prodotti quindi come vedete cambia diciamo lo schermo che voi vedete cambia a seconda di quello che state visualizzando ad esempio essendo energy lap per il termostato che abbiamo visto in un video abbiamo la possibilità di abilitare o meno i dati abitazione perché per la localizzazione della persona all'interno dell'abitazione quindi a seconda dell'app avrete più o meno informazioni da abilitare ma poi insomma ci sono tante cose ecco una cosa sicuramente che vorrete gestire è quello di cambiare lo sfondo al vostro cellulare come vedete potete naturalmente scegliere qualsiasi foto avete nel vostro album fotografico quindi questo è normale ma potete anche scegliere ad esempio quelli dinamici che appunto si muovono all'interno dello schermo vedete qui abbiamo queste bolle tipo bolle di sapone colorate la possibilità di avere questi sfondi statici ma che hanno una particolarità come vedete sono divisi a metà perché a seconda dell'ora del giorno possono essere più o meno oscuri per esempio vedete soprattutto con gli sfondi naturali è molto bello perché avete un panorama di mattina e giorno e di sera e notte quindi cambia il colore dello sfondo a seconda di queste di queste situazioni oppure quelli live che sono bellissimi che si muovono proprio all'interno dello schermo ad esempio prendiamo questo qui live e teniamolo premuto vi faccio vedere cosa vedete è uno schermo appunto che si muove di continuo all'interno del vostro sfondo poi scegliete voi insomma come quello che più preferite un'altra funzione che voglio far vedere allora nel momento che il telefono è bloccato normalmente potete sbloccarlo tramite swipe se avete vedete se si è sbloccato da solo perché mi ha visto quindi col Face ID è veramente tutto istantaneo se lo utilizzate vi accorgete della potenza del Face ID potete una volta che è bloccato lo schermo facendo uno swipe sempre in alto potete andare a vedere tutte le notifiche vedete se qua ne ho lasciate tante attive proprio per farvi vedere quante ne potete gestire e potete anche cliccare eliminarle tutte quante basta fare così vedete tutte le notifiche sono state eliminate sempre da questa modalità iniziale quindi senza sbloccare il telefono potete andare a abilitare la torcia quindi anche senza avere la passo quindi basta cliccare di lato e abilitare la torcia potete abilitare la torcia oppure abilitare la fotocamera in questo caso basta tenere premuta la fotocamera e potete entrare direttamente fare le foto insomma video eccetera senza entrare direttamente nell'app quindi basta cliccare qui di lato e poi entrare in modalità fotografica se invece ci troviamo nella schermata già sbloccata con due dita basta andare in giù e vedete abbiamo qui una ricerca qui dentro possiamo andare a ricercare tutte le nostre app basta andare a scrivere qui dentro quello che cerchiamo e come vedete ci fa una sorta di ricerca sia sulle app questa è una cosa interessante ma anche all'interno di Safari quindi sfruttando il motore di ricerca possiamo andare a fare una ricerca all'interno di un siti web addirittura di numeri di telefono e se andiamo in basso anche su lo store quindi se ci sono app in questo caso casa.it appunto è un'app di annunci e come vedete anche ci sono il calendario degli appuntamenti i contatti cioè tutto quello le foto che riguardano la casa quindi è un motore di ricerca interno al vostro smartphone veramente veramente potente. Andiamo a vedere anche come si vanno a creare le cartelle allora tutte le app all'interno di iOS si trovano come vedete all'interno delle varie schermate quindi sono così libere una volta che voi le avete scaricate vi ricordo che per scaricare dovete utilizzare l'app store iscrivervi per l'iscrizione siete già iscritti cioè nel momento che avete creato il vostro ID Apple siete già iscritti. Bisogna sempre collegare una carta di credito anche se poi scaricate le app gratuite però la carta di credito comunque sia ci vuole quindi avete tutta una serie di app che vanno suddivise sia le app del giorno, giochi, le app di natura generale, Arcade che è una modalità particolare c'è un abbonamento da pagare per avere questa opzione che è quella appunto di avere giochi gratis quindi giochi scelti da Apple stessa di qualità naturalmente ma totalmente gratuiti si paga un tot al mese per avere un canone insomma per avere queste app naturalmente abbiamo anche il motore di ricerca. Avete queste app libere all'interno del vostro cellulare per raggrupparle insieme basta tenere premuta un'app ad esempio prendiamo iTunes Store e trascinarla vedete? La sto trascinando per esempio su App Store quindi rilasciando in questo modo vedete avete creato una nuova cartella che in questo caso si chiama a serie di vita ma qua la potete chiamare come volete che racchiude tutte le altre app basta cliccare sul pulsante fine in alto per tornare in modalità di configurazione come avete visto nel momento che tengo premuto un'app la posso naturalmente spostare e inserire all'interno della cartella come in questo caso oppure tirarla fuori e andarla a mettere dove voglio quindi posso decidere la posizione in cui voglio posizionare scusate un gioco di parole la mia app ad esempio la voglio mettere comunque sia qui dentro. Posso anche naturalmente eliminare l'app quindi come si disinstalla un'app all'interno di iOS basta cliccare sul meno che si viene a presentare e qua dentro possiamo decidere che cosa fare come in questo caso rimuovere dalla schermata home ho cliccato su app store proprio perché c'è una differenza tra le app di sistema rispetto alle app scaricate di terze parti guardate qual è la differenza qui io posso rimuovere dalla schermata home che vuol dire la tolgo dalla vista ma non la vado a disinstallare non lo sto effettivamente cancellando ok se vado a prendere invece ad esempio dropbox tenendolo premuto se faccio rimuovi adesso io faccio rimuovi mi da due possibilità eliminare l'app quindi in questo caso la proprio cancello dal dispositivo oppure rimuovere dalla schermata home ma anche in questo caso la vado a nascondere quindi non la tengo più a vista adesso vi faccio vedere anche dove si vanno a recuperare basta se voi scorrete tutte le varie schermate fino alla fine vedete una libreria di app quindi l'app adesso si trova all'interno di questa diciamo mega raccolta di tutte le app installate sul vostro smartphone anche di quelle che non si riescono più a vedere perché l'avete tra virgolette nascoste sull'app e andare vedete la sto riportando magari la rimetto dove stava prima eccola qui stava qui la posso riportare a uno stato di presentazione quindi la voglio rivedere tenendo premuto a lungo invece alcune app come in questo caso fotocamera vedete come appaiono altre funzioni tipo scattare un selfie mutare il ritratto scattare un registrare un video eccetera quindi a seconda del tipo di app che state schiacciando per esempio anche le email vedete ho la possibilità di entrare immediatamente in una cartella oppure creare subito un nuovo messaggio quindi senza entrare nell'app posso già creare un messaggio altra cosa che potete fare sempre dalla schermata principale è quella di fare uno sweep tutto quanto a sinistra e vedete qui ci sono delle widget molto interessanti che possono essere inserite all'interno di questa modalità ad esempio vedete ci sono tutto quello delle notizie la possibilità di vedere la diciamo le batterie sia in questo caso abbiamo lo smartphone l'apple watch ma per esempio avremmo anche le nostre airpods in questo momento non le ho vicine ma ci sarebbe anche indicata la batteria appunto di queste airpods la possibilità di vedere in questo caso il consumo quanto tempo sono state aperte alcune app all'interno del vostro dispositivo e tante altre poi in basso vedete c'è modifica e potete modificare la posizione di queste widget ma anche inserirne nuove basta cliccare qui sul più e potete andare a cercare delle nuove widget che si trovano sempre a disposizione sempre per quanto riguarda le widget importante oltre a vederle lì dove abbiamo visto noi possiamo anche inserirle all'interno della scherma da home ma è una delle novità di iOS 14 se non mi ricordo male quindi tenendo premuto sullo schermo e cliccando qui in alto sul più vedete posso per esempio prendere il fitness posso prendere questo widget decidere che grandezza dargli vedete diciamo che lo voglio questa aggiungo widget vedete l'ho inserita all'interno della mia schermata quindi oltre ad avere in questo caso delle icone posso anche mettere la schermata in questo caso del fitness quindi siete liberi di personalizzarvi come volete il vostro sistema da dire su iOS sull'iPhone eccetera ci sarebbe tanto ancora quindi diciamo la mia non era quella di fare una presentazione di un sistema operativo o di un cellulare ma era più che altro darvi alcune piccole indicazioni per chi passa appunto da un sistema ad un altro se avete qualche dubbio lasciatemi un commento magari se non riuscite a ritrovare qualche funzione che siete abituati a fare sul vostro vecchio Android ormai vi chiamiamolo vecchio visto che siete passati iOS lasciatemolo sapere e cercherò di darvi una risposta sempre qui nel mio video allora anche per oggi il video finisce qui non mi resta che ricordarvi le solite cose che ci diciamo tutte le settimane quindi di iscrivervi al canale di mettere la campanellina per avere sempre le notifiche su nuovi video e normalmente se vi fa piacere anche mettere un like quindi anche per oggi è tutto vi auguro buona domenica e ci vediamo in un prossimo appuntamento sempre qui sul mio canale un saluto e un abbraccio da Stefano